Ciao ragazzi, oggi facciamo uno sparring particolare, siamo in quattro, quindi faccio io prima e lui e loro due e ogni minuto ci cambiamo di coppia, quindi sono riprese da tre minuti dove ogni minuto c'è un avversario diverso. 10 secondi e si parte. 3 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 secondi e si parte. Oh no, andiamo in un video, andiamo in un video. oh oh poいる dove sono sono dove sono oh 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 dai non è un terzo round di meno però vai fire round oh oh ok 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 oh 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 Noi, noi, noi. Noi, noi. Noi, noi. Noi, noi. Noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi. Ancora in via. Noi, noi. Noi, noi. Noi, no. Ora facciamo le ripetute ma il video finisce qui. Al prossimo video ragazzi. Noi. 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 Noi.